Turismo nel 2023 Bucine, terzo comune in provincia di Arezzo per presenze. Una crescita del 10% rispetto al 2022 che ha fatto del territorio amministrato dal sindaco Nicola Benini una delle mete più ambite dai flussi turistici nell'Aretino dopo soltanto il capoluogo provinciale e Cortona. Come risulta dai dati elaborati dall'ufficio regionale di statistica la maggior parte dei visitatori provengono dall'estero. Nel 2023 le presenze sono state oltre 140.000 di queste quasi 99.000 straniere. Grazie alla propria posizione strategica e alla ricchezza storica, artistica ed enogastronomica del proprio territorio Bucine è comune dove i turisti si trattengono di più per le proprie vacanze con una media di quasi 5 giorni di soggiorno. Un'attrattività aumentata grazie alle azioni intraprese a sostegno della promozione turistica come per esempio il sito divulgativo visitvaldambra.com, la maggiore incisività dei canali social e la professionalità dell'intero sistema ricettivo del territorio. Un'ulteriore conferma dell'impegno dell'amministrazione a supporto dello sviluppo del turismo è la guida turistica di Bucine della Valdambra in lingua inglese messa a disposizione gratuitamente per tutti gli operatori dell'accoglienza. Un risultato ottenuto anche grazie alle sinergie messe in campo dalla Comune con gli operatori, le associazioni e le proloco.